gli archetipi permanenti domanda se non ricordo male all'inizio della costituzione del cosmo viene emanata la vibrazione prima che porta alla volontà dell'assoluto quindi si potrebbe dire che essa dà origine dapprima alla materia del piano acasico e dai relativi archetipi permanenti che quindi sarebbero i suoi strumenti nel recente messaggio se non ho frainteso viene detto che la vibrazione prima attiva i processi di evoluzione quindi i tre processi evoluzione della materia della forma e della coscienza sono guidati da un unico modello appunto quello contenuto negli archetipi permanenti in altre parole la vibrazione prima trasmette agli archetipi permanenti tutte le funzioni che porteranno alla costituzione del cosmo pertanto tutto quello che finora avevamo considerato proveniente direttamente dalla vibrazione prima in realtà gestito dagli archetipi permanenti cerchio ifior vito ricapitoliamo assieme cercando di schematizzare la creazione della manifestazione cosmica partendo dall'assoluto